In compagnia di Lorenzo Lipparini, che è neoassessore, penso già operativo, a Milano, quindi abbiamo un assessore radicale a Milano, qui al quindicesimo congresso di radicali italiani, ovviamente questo nuovo esempio di radicale all'interno delle istituzioni che personalmente ritengo cosa positiva, gli chiediamo se hai già cominciato a lavorare, intanto che tipo di assessorato gli hanno assegnato? Ormai sono quattro mesi che è iniziata questa nuova esperienza, anche se di mezzo l'estate è una completa riorganizzazione della macchina, della struttura dei funzionari del Comune di Milano, che di solito avviene ogni volta che cambia il sindaco, come in questo caso, e questo ha reso tutto effettivamente un pochino più lento nella possibilità di lavorare fin da subito a tempi molto molto rapidi sui vari progetti del sindaco e della giunta. L'assessorato si chiama partecipazione, cittadinanza attiva open data, sono dei termini che ad alcuni gruppi di associazioni particolarmente organizzati dicono molto e richiamano tutta una serie di azioni ed interventi specifici su cui si lavora per portare più democrazia, più coinvolgimento delle fasce soprattutto marginali di popolazione nelle decisioni che riguardano la vita comune, l'urbanistica, l'organizzazione della condivisione, dell'uso dei beni pubblici e cose di questo genere. Open data richiama molto le tematiche riguardanti la trasparenza, la pubblicazione dei dati, tutte le politiche di accesso agli atti, mentre ci sono altre questioni che sono state affidate a questo assessorato, anche se non rientrano nel titolo, che riguardano soprattutto la valutazione della qualità dei servizi da parte dei cittadini, la customer satisfaction che è un aspetto molto importante perché restituisce ai cittadini l'importanza e la centralità della valutazione del giudizio proprio per sapere come indirizzare e modificare soprattutto, sto pensando, alle carte di servizi che vengono stipulate con le aziende, spesso sono aziende controllate, partecipate dagli enti pubblici ma altre volte sono aziende completamente private che svolgono servizi per il comune in questo caso e la cui valutazione sulla raggiungimento degli obiettivi e delle performance è fondamentale anche per sapere come comportarsi in futuro rispetto proprio all'indirizzo delle gare di appalto e di come vengono disegnati questi servizi. Quindi diciamo è un assessorato innovativo perché prima non c'era è molto molto trasversale perché poi effettivamente i servizi che si vanno a valutare sono soprattutto servizi relativi ai trasporti, servizi relativi ai servizi sociali e così come la trasparenza e la partecipazione, trasparenza riguarda più in generale gli adempimenti normativi e la propensione di tutto il comune di Milano alla pubblicazione dei dati, infatti abbiamo una responsabilità specifica proprio sul portale dove vengono rilasciati i dati del comune di Milano. La partecipazione anche questa insomma riguarda ed è forse la ragione per cui hanno scelto con il sindaco Beppe Sala di affidare proprio ad un radicale questa responsabilità un riconoscimento della storia e della specializzazione dei radicali nelle tematiche che riguardano il coinvolgimento dei cittadini su referendum, delibere di iniziative popolari. Non dimentichiamo che a Milano per esempio negli ultimi 5 anni i radicali sono stati attivi nella raccolta di oltre 200.000 firme di cittadini per attivare proprio 5 referendum consultivi, altri 5 referendum propositivi, una decina di leggi di delibere di iniziative popolari, leggi di iniziative popolari nazionali, sul voto nella città metropolitana, oltre che tutti i referendum che sono arrivati radicali nazionali in questo periodo. Quindi diciamo ci hanno spesso visto e spesso si sono sentiti sollecitati sul fatto dell'adesione a queste battaglie, del fatto di rendersi disponibili per fare gli autenticatori, insomma in questo caso hanno insieme alla nuova maggioranza deciso di riconoscere questa specializzazione, questa particolarità in un momento in cui scende molto la partecipazione dei cittadini ai momenti elettorali e c'è una volontà politica forte di investire invece su questi temi per recuperare molto il protagonismo dei cittadini nell'urbanistica e nella gestione dei servizi. Quindi è una volontà che discende naturalmente dal momento elettorale e dall'accordo che abbiamo trovato come radicali della lista radicali con il sindaco Beppe Sala in fase di apparentamento nel secondo turno elettorale. Abbiamo trovato una convergenza proprio sui temi della partecipazione e dell'utilizzo dello strumento referendario per promuovere consultazioni presso i cittadini sui grandi progetti di trasformazione urbana come quello della riapertura dei navigli a Milano e sulla valorizzazione dello strumento referendario per la decisione dei grandi posti che riguardano l'amministrazione della città. A Milano abbiamo il post-expo, abbiamo un grande capitolo che riguarda l'utilizzo di un milione di metri quadrati di ex-scali ferroviari, quindi aree centralissime molto valutate da un punto di vista economico e quindi ci saranno tante occasioni in cui mettere alla prova questi strumenti e questa volontà di mettere più partecipazione a disposizione dei cittadini. Lorenzo, sicuramente ci sono difficoltà, va bene, determinate dall'inizio, dall'avvio in qualcosa che prima non c'era, però ovviamente io penso che ci sia... no, sicuramente non c'è un assessorato gemello a Roma, ma a Roma ovviamente sarebbe stato molto più complicata la questione, quindi ovviamente ti auguriamo buon lavoro. Invece venendo un po' all'aspetto interno, qui appunto il quindicesimo congresso dei radici italiani, ecco, che atmosfera hai trovato dopo il congresso straordinario del partito radicale transnazionale a Rebibbia? Devo dire, per quello che riguarda i numeri del congresso mi sembra che si confermino in linea con i precedenti è comunque un ambiente di grande attenzione e di grande partecipazione dei congressisti con una particolarità, devo dire, nel senso che in tutto il pomeriggio di oggi si è svolta una sessione transnazionale su temi molto specifici, qual è l'analisi delle politiche delle migrazioni in Italia, la situazione delle crisi del vicino Oriente, della Siria, dell'Iraq, insomma sono stati dei momenti transnazionali che forse hanno caratterizzato più questo congresso che quello di Rebibbia dove invece per quanto nella ragione sociale del partito radicale transnazionale non violento traspartito è mancato un po' il confronto con attori e protagonisti della politica internazionale e transnazionale e un approfondimento su questi temi, anche per conseguenza del fatto che il congresso si è svolto in carcere e si è scelto piuttosto di puntare sui temi della giustizia, della giustizia italiana, delle questioni appunto relegate ai diritti dei carcerati. Quindi devo dire comunque un bel segnale quello di oggi, di voler comunque tutelare nel dibattito interno una specializzazione, un interesse verso tematiche fondamentali che riguardano tra l'altro l'attualità anche italiana del dibattito pubblico in modo molto pressante anche dalle città che si trovano esposte alla questione dei flussi e al problema della gestione dei migranti alla più grande questione della riorganizzazione europea e degli accordi con i nostri partner europei e del vicinato, insomma proprio sulla questione dei migranti. Quindi devo dire quello che forse non c'è stato là l'abbiamo recuperato in parte qua. Noto, si nota evidentemente la mancanza di diversi compagni che invece c'erano a Rebibbia, molti di loro sono anche iscritti credo ancora a Radicali Italiani, è una divaricazione che non possiamo non registrare e non vedere, insomma sul fatto che alla fine per quanto non formalizzato e preso atto da tutti, nel senso che c'è stato l'atto partito radicale e senz'altro un gesto formale come quello della sospensione dello statuto del partito radicale che di fatto ha disconosciuto o ha comunque interrotto un rapporto quello dei soggetti costituenti proprio del partito stesso. Dal lato radicale italiane dobbiamo registrare invece che non c'è assolutamente nessuna causa ostativa che impedisca a tutti i compagni di tante battaglie che hanno fatto tanta strada fino a questi ultimi giorni, questi ultimi mesi insieme a venire a contribuire al dibattito come è sempre stato e come c'è sempre stata la possibilità di fare, quindi il mio è un auspicio piuttosto che questo momento possa continuare ad essere come negli ultimi anni è stato un momento del dibattito anche di tutte le realtà, le componenti radicali perché anche in assenza di altri momenti di dibattito interno radicale il congresso dei radicali italiani come lo sono stati i comitati nazionali sono sempre stati dei momenti particolari dove si è potuto parlare, dove tutti hanno potuto parlare ed esprimere la propria opinione, quindi io credo che in futuro questo possa addirittura continuare ad essere così nonostante tutte le difficoltà dell'ultimo periodo. È interessante questo aspetto della complementarietà tematica e politica, quello che non hai trovato lì, hai trovato qui, quindi insomma effettivamente all'ospicio lo mandiamo come più personaggi che qui abbiamo intervistato hanno mandato insomma il ritorno a una certa unità insomma anche d'azione perché sarebbe importante. Grazie, grazie a Lorenzo Lipparini e buon lavoro per il suo nuovo assessorato, insomma assessorato nuovo, insomma ci sono già qualche mese ma comunque sia avrai sicuramente da lavorare. Grazie ancora.